ma seguiamo questo attacco del Piacenza palla dentro per Luiso che la controlla di petto Luiso se la alza ed è gol ed è gol incredibile di Luiso incredibile gol di Luiso 71 minuti sul cronometro il toro di Soro Pasquale Luiso disegna una sforbiciata memorabile per il pubblico di Piacenza compone una poesia qui al Garilli